Giunta di Cassugana tentata di sperimentare già sotto Natale la chiusura al traffico il martedì e il sabato mattina della zona del mercato, altrimenti bisognerà aspettare l'estate. Putt'interno interrotto da Varco Filippin, poco prima di Ponte della Pria, fino a Portapiave per evitare intasamenti. C'è un'interapolazione scolastica che di fatto al martedì rende davvero impraticabile l'orario di uscita dalla scuola e quel tratto di Vene d'Alviano che poi, voglio dire, provoca anche una cuda aggiungendosi ai partecipanti del mercato fino proprio a limitare delle bancarelle. Secondo obiettivo non certo secondario, evitare lo slalom delle auto tra la gente. Lì è un problema davvero di garantire l'incolumità e di rendere agevole appunto quella zona. Dal mattino fino alla chiusura del mercato, quel tratto di Viale Burchiellati e necessariamente Viale Terza Armata diventerebbero pedonali, così come sarebbe vietato l'ingresso dall'esterno a Varco Manzoni. Credo che i commercianti stessi, gli ambulanti stessi siano d'accordo su questo tipo di messa in sicurezza e l'unica cosa che stiamo valutando, che dobbiamo fare molto attentamente, è vedere se il PUT potrà ricevere appunto il flusso di traffico che si andrebbe a immettere da Varco Filippino o prima ancora da Porta Fraggio Condo. A questo punto io sarei per proporre alla giunta di fare comunque presto una sperimentazione, che è l'unica cosa che ci può restituire un dato di realtà oggettivo e decideremo se farlo quando ci saranno aperte le scuole o quando invece le scuole saranno chiuse.